Noi lo vediamo come un dramma quotidiano, nel senso che molte volte gli informatici sono molto più introspettivi, molto più solitari e si fa veramente fatica a trovarli, ma in realtà sono quelli che comandano, infatti all'ingresso di H5 c'è un cartellone gigante con una frase di, mi sembrava steggiosti, che dice non disprestate mai troppo i nerd, perché un giorno potrete lavorare, è molto probabile che un giorno lavorerete intorno di loro, perché gli informatici sono oggettivamente oggi quelli che comandano, perché tutto quanto quello che noi facciamo, gravita, attorno al mondo del digitale, siamo bravissimi a pensare a idee innovative, a pensare a nuovi modelli di business, a pensare a nuove start-up, però non c'è bisogno di farle, se non abbiamo l'informatico, se non abbiamo l'ingegnere, siamo fregati, per cui assolutamente andate a caccia di informatici, andate a caccia di ingegneri, perché sono più vitali, e voi non tirate la troppo, ma da economo, ok, e mettete a disposizione il bagaglio che avete, che è importantissimo.